E' Angelo Biondi il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative in programma la prossima primavera. Biondi stamattina ha ufficializzato il proprio impegno nel corso di una conferenza stampa. Non ci saranno partiti ad appoggiare l'ex sindaco che correrà sostenuto dalla lista civica Riprendiamo il Cammino. Vari i temi affrontati durante il confronto con la stampa di questa mattina. I prossimi, le parole di Angelo Biondi, saranno sette mesi di dialogo con la città, con le categorie produttive, con le associazioni e con i quartieri. Biondi ha parlato della mancanza di continuità dopo la fine del proprio mandato nel 2008 e ha annunciato di voler riprendere proprio da lì il discorso interrotto. Questa candidatura nasce dalla richiesta, dagli inviti che ho ricevuto nei mesi passati da tantissimi cittadini che ritengono che la mia esperienza e la mia figura possa essere utile oggi in questo momento difficile che sta attraversando la città proprio per traghettare ricata dal pandano in cui si trova. Il primo candidato ufficiale ha fornito anche un'anticipazione sull'appoggio politico di cui godrà. Il gruppo Oralicatalab di cui fanno parte Angelo Iacona, Violetta Gallè e Armando Sorci sosterrà infatti in maniera compatta Angelo Biondi. L'ex sindaco ha fornito il proprio programma elettorale che tocca vari aspetti a cominciare dalla pressione fiscale e dal rilancio dell'economia cittadina. La situazione non solo da questo punto di vista sociale e economico ma anche per quello che sono oggi le situazioni che vedono gli enti locali sempre più nel mirino dei tagli dello Stato e della Regione e quindi con una tassazione per esempio di tributi locali al massimo dei livelli consentiti, anzi secondo me non consentiti perché alla fine ogni forma di riprese di possibilità di dare imbulso all'economia della città, alle attività produttive, a chi ha voglia di intraprendere, di fare qualcosa viene mortificata appunto anche da questa eccessiva tassazione locale. Certo oggi ci vuole coraggio per affrontare questo impegno però io siccome ritengo che ogni cittadino che abbia a cuore la propria comunità non può girarsi dall'altra parte e fare finta che la cosa non gli appartenga. Ho avuto queste sollecitazioni, c'è gente che crede in me, io sono convinto di poter dare un mio contributo e oggi insieme al Movimento Civico riprendiamo il cammino, presentiamo la nostra proposta alla città, poi saranno i cittadini di Catesi a scegliere quello che ritengono più utile per la crescita e lo sviluppo della comunità.